musica 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 sono un amico grazie vero? oh mio grazie 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 e questo è un dono e questo grazie grazie veramente ti amo ti amo ti amo grazie grazie per te posso dare questo non mi piace perchè è molto potente per me grazie grazie per i nocturni tutto bene non preoccupi dimenticare lute 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 106 non preoccupi ah ok posso dare a te un amico per esempio per trade perchè hai un amico che vogliono il nocturno perchè hai la schematica per esempio ho un amico che ha 10 anni sono soldi è un idio ma credo potremmo 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 con lui ok ok mi dimenticare un amico grazie grazie non preoccupi per un altro nocturno per esempio per esempio posso dare questo per il nocturno che ha 82 ok posso fare un 82 perchè ho 3 uno è 130 e l'altro 82 perchè ho un altro non hai 38 ho un ho un ho un ah grazie bro ho dato questo ok per il gendarme per te grazie 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 perché ho 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 dato ho dato ho dato il mio canale ah ho questo cosa è questo posso provare non non hai non non hai che per me di me dai non nemmeno non ho dato non ho dato un altro Che cosa succede?